Grazie a tutti Ben ritrovati a Il Punto, trasmissione che viene prodotta nel centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, quindi temi inerenti, l'attività e la politica in regione, soprattutto in aula dove si svolge il Consiglio regionale. Come sempre nel nostro studio due consiglieri regionali, oggi il capogruppo di Forza Italia, Raffaele Nevi, capogruppo del Partito Democratico Gianfranco Chiacchieroni. Buonasera. Ci sono alcuni comuni anche importanti, per esempio quello di Assisi che ha visto anche l'avvicendamento nella figura del primo cittadino. Adesso ad Assisi c'è una prima cittadina e si è passati dal centro-destra al centro-sinistra, quindi un'analisi si rende necessaria. Ne approfitto proprio della presenza di due presidenti di gruppo in regione per fare un'analisi del voto e quindi per vedere che cosa cambia, che cosa significa questa modifica e che cosa comportano le elezioni che si sono svolte nell'ultima tornata. Comincio da Raffaele Nevi. Le elezioni amministrative sono sempre più un fatto locale, agganciato alla realtà delle varie città. Mi sembra che al di là di Assisi, che per noi è stato un elemento di problematicità, perché la rissosità all'interno del centro-destra ha chiaramente favorito il centro-sinistra, pur essendo minoranza in centro-sinistra nel quadro delle forze politiche assisiane. Per il resto mi pare una tornata amministrativa abbastanza positiva per il centro-destra, che è andato al successo in realtà importanti, tra cui Amelia, di cui sono particolarmente orgoglioso, visto che si tratta di una persona molto cara, vicina, eccetera. E quindi poi ci sono state affermazioni anche nei centri minori, però sempre più le elezioni amministrative risentono delle dinamiche locali, all'interno, sempre più i cittadini giudicano le persone che si candidano e la squadra che viene messa in campo. Se questa è una squadra seria, credibile, affidabile, che garantisce, che tranquillizza anche per certi versi, viene votata. Anche il quadro nazionale mi sembra andare in questa direzione. Le elezioni sono state per la prima volta molto a macchia di leopardo, nel senso che ha vinto centro-destra e centro-sinistra in luoghi più diversi, con le storie più diverse. Segno che, ripeto, c'è sempre meno un voto strutturato sui partiti e sempre più invece una libertà del cittadino di scegliere in base alle sue sensazioni, alle sue particolari situazioni che si ritrova in quel determinato momento. Questo penso sia anche un fatto positivo che ci spinge, almeno per quanto ci riguarda, a puntare sempre di più su una classe dirigente seria, credibile, preparata, che riesca, diciamo così, a anteporre il bene comune alle piccole logiche dei partiti, delle correnti interne, delle cose che oggi al cittadino non interessano più. Chiacchieroni, la vittoria di Assisi, che certamente fa capo al Partito Democratico, dimostra però ancora una volta che quello che succede in Umbria a volte è slegato da quello che succede in altre parti. In altre parti il PD invece non ha vinto. Vorrei un'analisi anche del dato nazionale, come ha già cominciato a fare Raffaele Nevi, perché ci sono state città dove il PD ha avuto una vittoria importante, ci sono state città dove la vittoria importante l'ha avuta la terza forza in campo, cioè il Movimento 5 Stelle, che inevitabilmente finisce anche per alterare gli equilibri. Quadro nazionale. Su Assisi l'ho premesso, vittoria del PD. Sì, siamo di fronte a una battuta d'arresto importante del Partito Democratico e questo ci deve far riflettere. Sostanzialmente per quanto riguarda il contesto, sia nazionale che regionale, sono importanti ormai i due fattori che si equilibrano fra di loro. Uno, la capacità di tenere insieme una coalizione la più ampia possibile e, alla stessa maniera, la capacità di mettere in campo persone di qualità, riconoscibili come tale. Questi sono gli elementi che avere la possibilità di mettere in campo questi due fattori danno una buona possibilità per le affermazioni nell'ambito delle competizioni elettorali e amministrative. Questo penso che vale appertutto, per l'Umbria, come vale per il resto d'Italia. La vicenda Assisi, appunto, è stata determinata da una disarticolazione del centro-destra, che si è presentata con quattro candidati al sindaco e quindi la qualità della proposta del centro-sinistra ha avuto la meglio, sia come elemento di aggregazione, sia come anche la qualità delle persone che ha messo in campo. Ecco, questi sono gli elementi, il messaggio che ci vengono da queste elezioni amministrative e di questo dobbiamo fare tesoro. Poi c'è anche un elemento, come dire, più di quadro nazionale che ha pesato anche nell'ambito del risultato elettorale, quindi una necessità di portare avanti un processo di riforma ancora più incisivo e anche la necessità, appunto, per le famiglie italiane di vedere qualche elemento di positività nell'ambito della crisi, in più che oggi manca, appunto, per il perdurare di questa situazione economico-sociale. Restiamo un attimo sull'attualità e continuiamo così a guardarci intorno. Il centro-destra perde a Sisi, però altrove, anche dove vince o dove si presumeva che potesse vincere facile, invece accadono delle novità. Per esempio, la Lega appoggia decisamente la candidata Meloni a Roma, che poi però non arriva al ballottaggio perché anche lì c'era una discreta frammentazione, però dal suo bisogna dire anche che la Lega perde Varese, cioè perde città invece del Nord che cambiano completamente guida politica. Questo certo rientra nella scelta delle persone, no? Però sono anche segnali di movimento dell'elettorato, cioè non è che si sta fermi in un partito, in una corrente, ma evidentemente c'è un flusso di elettori. Sì, è quello che dicevo prima, insomma, ormai la gente è più libera dagli schemi del passato e questo secondo me è un fatto positivo, nel senso che non c'è più nulla di scontato per nessuno, non ci sono quindi rendite di posizione, la gente si è stancata di quelli che dicono tante cose in campagna elettorale e poi non le attuano negli anni che governano e quindi, insomma, il quadro io penso che sia questo, che spinge le forze politiche a rinnovarsi nel profondo, a cambiare, perché altrimenti c'è anche la possibilità che vincano delle forze antisistema. Un po' voto di protesta, un po' però anche voto, diciamo, invece di coscienza, nel senso che poi alla fine, quando anche il Movimento 5 Stelle azzecca il candidato giusto al posto giusto, con argomenti giusti, vince le elezioni. Ecco, quindi, mentre Roma, secondo me, è più un discorso di protesta rispetto a tutto ciò che è venuto fuori e che ha riguardato trasversalmente un po' tutti i partiti, Torino è una realtà dove invece la candidata mi dicono, insomma, che abbia fatto anche un po' la differenza e poi, ecco, c'è un meccanismo che pure si è appalesato anche in altre città e di cui sento discutere anche all'interno del PD, cioè che il partito di governo è percepito un po' come il partito dei poteri forti, un po' il partito, e meno del partito del popolo. Ecco, quindi, su questo i partiti tradizionali devono recuperare, perché se poi ti manca il popolo le elezioni le perdi, perché chiaramente è quello che fa la differenza e quindi ci interroga sulla condizione sociale ed economica, non solo delle periferie, ma anche di strati sociali importanti che coinvolgono l'intero sceto medio, le classi dei lavoratori che sono chiaramente in grande difficoltà, che hanno grandi incertezze sul futuro e che quindi utilizzano il voto per mandare segnali che sono, secondo me, anche molto chiari. Chiacchieroni, un'altra tappa si profila subito dopo l'estate, perché si torna al voto. Questa volta non si devono scegliere le persone, ma si deve fare una riforma che il governo ha prospettato, una riforma che è in campo, molto discussa, c'è il fronte del no e il fronte del sì. Questo è un nuovo test proprio anche politico per i partiti, in primis per il partito di governo, per il partito democratico. Sì, è un esame delle riforme che il governo Renzi ha messo in campo, che sono tantissime, e quindi ci sarà un giudizio, spero che sia il più sereno possibile, dei cittadini e degli elettori. Naturalmente non è che con questo referendum si possono determinare il profilo di una legge o di un altro, è un giudizio sul complesso delle riforme che viene portato avanti. Naturalmente non sarà solo sulle riforme, sarà anche sull'azione e in qualche maniera verrà coinvolto anche l'attività del governo e quindi ci sarà un impegno importante per far sì che queste riforme siano il più possibile condivise e che comunque si vada avanti sul terreno di queste riforme. Il simbolo di tutto ciò è il superamento del bicameralismo paritario e perfetto, che è il simbolo di questa iniziativa referendaria e spero che, siccome se ne parla ormai da 40 anni in questo Paese, che questo si possa fare e si possa procedere in questa direzione. In un contesto come quello europeo, oggi si tiene il referendum in Inghilterra, speriamo che l'Inghilterra rimanga, la Gran Bretagna rimanga nell'Unione Europea e in un contesto come questo in cui appunto oltre agli stati nazioni c'è anche il Parlamento europeo che legifera, fa regole, fa leggi. Poi ci sono anche le regioni, ecco, quindi anche esse avranno una loro modificazione, una loro evoluzione, però insomma i livelli sono tantissimi, continuare a tenere tutto ciò come se nulla fosse, come se fossimo mai stati in azione fino a 800, mi sembra a quanto anacronistico sia necessario andare ad una semplificazione e ad uno snellimento delle procedure legislative, amministrative e quant'altro. In un contesto in cui tutti stiamo lavorando per semplificare la vita dei cittadini e per aiutare appunto i cittadini in quanto tali o come imprese o come associazioni per migliorare la qualità della vita e per dare più opportunità possibili senza appunto tutte queste pastoglie burocratiche che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi questo è il segno del referendum, appunto un consenso su un processo di riforme che conosce appunto quello dell'ordine del giorno ma che è legato a tante altre. Allora a proposito di attività legislativa delle regioni, la seconda parte della trasmissione la dedichiamo proprio a questo, l'attività legislativa della regione Umbria. Prima però voglio sentire da Raffaele Nevi la posizione di Forza Italia sì o no a questa consultazione o perlomeno che argomenti il capogruppo di Forza Italia le ragioni del voto referendario. Noi siamo da sempre portatori di un'idea di semplificazione dell'organizzazione, della struttura dello Stato centrale in senso più federalista. la riforma che abbiamo fatto e che purtroppo è stata bocciata dagli elettori a causa della propaganda anche un po' della sinistra di allora era un tentativo di avvicinare i centri decisionali al cittadino, di dare più potere al cittadino, di diversificare il lavoro delle due camere per eliminare il bicameralismo perfetto e il tentativo di fare in modo che il Presidente del Consiglio dei Ministri fosse più forte e dipendesse di meno da un Presidente della Repubblica non eletto direttamente dai cittadini. Tutto questo è stato bocciato. A noi questa riforma messa in campo dal governo Renzi ci sembra un pasticcio cosmico perché torna indietro rispetto a un'impostazione più federalista che ci convince, anche se alcune regioni non hanno dato buona prova di sé, ma questo è un tema che non c'entra nulla con l'organizzazione dello Stato. Ritornare a centralizzare sui Ministeri tutta una serie di competenze è secondo noi una follia allo Stato puro. Come è sbagliato ridurre drasticamente la possibilità di eleggere i propri rappresentanti da parte del popolo. Il Senato fatto in quel modo con un'elezione di secondo grado inserirà nel sistema un di più di partitocrazia che è veramente il vero cancro del nostro Paese. Ogni volta che in Italia abbiamo sottratto il potere al popolo e dato più potere ai partiti è successo un disastro. Quindi questa riforma è una riforma che sottrae pesantemente poteri al popolo anche in virtù del combinato disposto con la legge elettorale e quindi ci sembra un vero pasticcio. non vorremmo che ci trovassimo di fronte un'altra volta a una riforma come è stata quella del 2001 che ha prodotto dei veri e propri disastri e anche le regioni ne hanno subito le conseguenze. Noi tutti ogni giorno ci rendiamo conto che i nostri poteri sono poteri assolutamente confusi e limitati, dovremmo invece fare in modo che ci sia una maggiore responsabilizzazione di chi governa le istituzioni locali affinché il cittadino possa avere chiaro di chi sono le responsabilità e votare lui sì o no alla conferma o meno del governo regionale e al governo locale. Quindi per questi motivi, che sono motivi di merito, voteremo no al referendum perché pensiamo che ci debba essere una riforma che innanzitutto è ampiamente condivisa e che possa essere ispirata da questi principi che per noi sono assolutamente fondamentali. La ringrazio, direi che i telespettatori possono essersi fatte un'idea del sì e del no. Abbiamo anticipato un tema che naturalmente polarizzerà l'attenzione di questo autunno. Dicevo, temi anche legislativi a carattere regionale. La terza commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ha appena dato il via libera a una proposta di legge, a un progetto di legge di cui Gianfranco Chiacchieroni è firmatario. Legge contro l'omofobia, a chi si rivolge, che cosa cambia l'introduzione di questa legge che dovrà essere anche approvata in aula, ma insomma il via libera della commissione dà la strada spianata a questa legge di cui si parla da molto tempo e che ha avuto anche pubblicamente prese di posizione da parte di associazioni appunto sulla efficacia e sulla voglia di vedere concluso questo iter. Adesso la diamo quasi come anteprima, insomma l'iter è quasi concluso perché manca il sì dell'aula ma c'è l'ok la votazione in commissione. Com'è andata il Chiacchieroni? Sì, c'è stato un dibattito che è iniziato con la legislatura, si era un po' arenato, ma poi con una discussione in Parlamento su questi temi c'è stata in quest'ultima fase, anche dopo i tragici fatti che sono avvenuti in Florida, negli Stati Uniti d'America, c'è stata ancora un'ulteriore sensibilizzazione sui temi appunto della lotta, del contrasto all'omofobia. Questa legge sostanzialmente interviene sui processi formativi ed educativi per cercare appunto di non discriminare le persone. Questo è l'articolo 3 sostanzialmente, ecco, recita questi temi, insomma, affronta queste questioni dell'educazione di contrasto alla discriminazione. È una legge che ha queste basi e soprattutto si rivolge al processo educativo e formativo, alle scuole, a tutto questo. Penso che, e poi anche nei luoghi pubblici, nei luoghi relazionali e così via. Penso che sia una legge importante che faccia fare un passo avanti di civiltà e dia un contributo di civiltà per l'Umbria e per il resto del Paese. C'è stato un sostegno convinto da parte della maggioranza, un'astenzione da parte del consigliere che rappresenta il Movimento 5 Stelle e un voto articolato, anche se contrario, da parte del centro-destra. Però c'è stata una discussione molto franca, vera e molto partecipata da parte di tutta la Commissione, anche con tanti processi di audizione e di partecipazione. Quindi, come dice il consigliere Nevi, e io sono d'accordo, è una legge che è prodotto del lavoro del Consiglio regionale, della sua articolazione, che è la terza Commissione. Sicuramente più voci si ascoltano, più legittimità assume il provvedimento che poi l'Assemblea legislativa dell'Umbria deve ufficializzare, deve inserire nel panorama legislativo. Nevi, questa legge come incide? Chiaramente incide molto per alcuni versanti, per alcune fasce della popolazione, insomma, la legge contro l'omofobia è chiaro che tutela determinate persone. Ho sentito anche chi dice il contrario, insomma, che invece però è una legge che discrimina all'incontrario, quindi i pareri sono un po' anche qui discordanti. Il mondo è bello per i vari. Perché i vari, veramente c'è molta varietà. A parte gli scherzi, io penso che sia una legge sulla quale bisogna e bisognerà anche in aula intervenire e confrontarsi in modo serio, perché su questi temi qua non si può scherzare, insomma, perché abbiamo visto che girano parecchi matti e quindi un po' sulla base della discriminazione religiosa, un po' sulla base della discriminazione sessuale, un po' sulla base delle discriminazioni razziali, qui il mondo non è che va troppo nella direzione giusta e quindi bisogna essere attenti. La preoccupazione mia è che si utilizzino queste leggi per fare un po' di propaganda a basso costo, per favorire qualche associazione attraverso qualche finanziamentino, per cercare, diciamo così, di allisciare un po' degli ambienti che sono tradizionalmente vicini al centro-sinistra. Ecco, io su questo penso che tra l'altro ci sono delle esagerazioni, insomma, di traspare, adesso il testo, confesso, siccome non faccio parte della terza commissione, non l'ho guardato ancora nei dettagli, lo guarderò quando arriverà in aula e saremo chiamati a votare, però insomma traspare un protagonismo eccessivo, lo dico da liberale, dello Stato, del pubblico che vuole addirittura portare questi argomenti all'interno delle scuole, cominciare dai bambini piccoli a ragionare su questi, non che sia sbagliato ragionare, ma bisogna vedere chi lo fa poi, la questione è molto delicata perché se l'approccio diventa ideologico veramente facciamo dei danni incalcolabili e rischiamo anche di andare a ledere quelle che sono le prerogative, secondo me, tipiche delle famiglie, insomma, ecco, quindi dobbiamo da una parte cercare di prevenire e curare anche delle deviazioni che la società mostra e che spesso albergano anche in settori della nostra società regionale e sono pericolosissime, però dall'altra parte, ecco, senza esagerare, perché poi quando si mette in mezzo l'ideologia si esagera sempre e quindi magari da un buon principio iniziale si arriva a una conseguenza che è invece nefasta, quindi per questo noi all'interno del centrodestra avevamo un po' discusso di questa legge, io per esempio da liberale rispetto assolutamente ci mancherebbe altro chi fa delle scelte, diciamo, diverse da quelle tradizionali, ma ecco, ripeto, non dobbiamo passare all'opposto, cioè che rischiamo di dimenticare chi ha una famiglia, chi cerca di fare figli e chi cerca, facendo figli, anche di portare avanti la società diciamo regionale in un certo modo, cercando di dare gambe a purtroppo un crollo demografico che è veramente drammatico, quindi ecco, con molta attenzione vanno approcciati questi temi e questo disegno di legge, diciamo, da questo punto di vista, a nostro avviso, ha dei punti di debolezza forti. Forse i bambini, siamo in chiusura, una riflessione così, un passant, forse i bambini non sono omofobi quando nascono, per cui, insomma, probabilmente loro già sanno qual è l'atteggiamento giusto, sarà anche importante, come sottolinea Nevi, che chi fa loro la formazione magari non faccia danno per partire magari con uno schema predisposto e dire dobbiamo arrivare a questo risultato e bisogna anche vedere i bambini, quali bambini, perché poi magari, no, dalla prima elementare alla quinta c'è differenza e i ragazzi delle scuole medie... Non è la sola risposta, i bambini quando nascono non sono omofobi. Non sono, non ce l'hanno, la tara... Questo è il contesto che gli fa crescere nell'ambito proprio, no, questo atteggiamento. Che è l'importante. E allora questo contesto va modificato, va formato, va aiutato. Questo è il senso della legge. Non ci sono nella norma finanziaria spese esigui, anzi, proprio pochi spiccioli, quindi può stare tranquillo l'amico Nevi da questo punto di vista. Io penso che è stato dato un grande contributo da parte di tutti e la legge contiene anche elementi di mediazione che tengono conto i diversi punti di vista. Per questo io sono abbastanza soddisfatto del lavoro fatto in commissione, del contributo dato da tutti, nessuno escluso. Questo è estremamente importante. Forse chiacchierò la pacatezza di Nevi nell'esporre la sua tesi, che è comunque contraria a quella che ha presentato lei, dipende anche dal fatto che Nevi, in quanto presidente del comitato di monitoraggio, potrà comunque subito monitorare a chi sono andati i soldi e quali associazioni. Ha fatto una bellissima iniziativa appena che si è insediato, è quella di approfondire i temi del sostegno alle famiglie. Abbiamo scoperto che sono tanti gli elementi di sostegno dalle politiche della casa, tante altre, per quanto riguarda la politica verso le famiglie. Dobbiamo continuare ad incentivarla, soprattutto per esempio le questioni della prima casa, sulla quale in consiglio si è aperta una lunga discussione, anche con un esito positivo. L'abbiamo condiviso insieme con il consigliere Nevi, nella modifica del bilancio abbiamo inserito ulteriori risorse per la prima casa. Quindi stiamo facendo un lavoro insieme che porta i risultati nel rafforzare la politica verso le famiglie. Questa è la politica attuale Nevi e questa è la direzione da prendere? Secondo me la crisi ci consegna, la crisi economica che ha investito il nostro paese e soprattutto la nostra regione ci consegna una difficoltà enorme delle famiglie, cioè qui la gente non fa più figli perché purtroppo le condizioni economiche e sociali non consentono avere quella serenità di guardare al futuro con fiducia e quindi chiaramente questo incide anche su questo. Questo è il vero problema, ecco perché noi pensiamo che ci sia bisogno di un segnale ben più forte sulla famiglia perché la famiglia è il nucleo che tutte le statistiche ci dicono essere più in difficoltà. Noi abbiamo purtroppo un'impostazione statale e anche nelle regioni, per esempio del welfare che è troppo centrata sull'individuo e poco sulla famiglia. quindi paradossalmente chi aumentano i figli aumentano i problemi, invece dovrebbe essere il contrario perché il contributo che alla società viene dato dai giovani e dalle nuove generazioni è molto importante e quindi una società sana dovrebbe stimolare le persone e spingere il sistema a fare più figli. Quindi ecco, il problema è un problema grande che purtroppo non si risolve così facilmente mi rendo conto, specialmente a livello regionale, speriamo che per il futuro ci sia una maggiore attenzione però su questi temi. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e grazie ai capigruppo di Forza Italia, Raffaele Nevi, Partito Democratico Gianfranco Chiacchieroni, a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento alla prossima settimana.